Buonasera a tutti e bentornati alle ex-secrette di vita di Genova in pillole. Questa è la sedicesima puntata, come ogni puntata ci concentreremo su un argomento in particolare e come quasi ogni puntata iniziamo con un acquarello a seppia, il nostro caro socio onorario, ma lo diciamo sempre, ossia Pasquale Domenico Cambiaso. L'acquarello che viene davanti ai vostri occhi ha il titolo Avancorpo del Palazzo Lucale e la Torre. Quello che riconoscete molto bene sicuramente è la Torre Grimaldina, ossia questa torre che tutti noi conosciamo. Quello invece che non riconoscerete è questo Avancorpo e questo pezzo di Palazzo Lucale. Ebbene, questo Avancorpo, simile all'Avancorpo che è dall'altra parte, ossia dal lato Gesù, come questa cortina centrale, questa parte di buona centrale, è stata distrutta nel 1850 quando Inizio Verdella riprogettò tutta la piazza antistante, cosiddetta piazza nuova. Quella che noi conosciamo oggi, una piazza Matteotti, già piazza Umberto I, piazza Nuova, piazza Umberto I, poi piazza Matteotti, attualmente piazza Matteotti. Vi mostro un... tanto vedete qua, un parete che esce dall'Arcene Scovado, quella invece è sempre uguale, questa zona qua. Vi mostro un'immagine, per farvi capire un po' meglio, com'era la piazza nuova con la cortina. Eccola qua, la nostra... la cortina che vedete qua, la vi vedete anche qua, vedete la cortina, scusate l'Avancorpo, e qui la cortina centrale chiudeva la piazza. Oggi questo spazio qua è vuoto e Palazzo Lucale, come sapete, come dire, abbraccia piazza Matteotti. Dicevo che il progetto è stato di Ignacio Gardella, Senior, per l'estimo di Ignacio Gardella, novecentesco, e sarà colui invece che farà, per l'affinatura, e Ignacio Gardella, diciamo così, ottocentesco, sarà poi colui che, per farvi un esempio facile, ha progettato anche le terrazze di marmo, che tutti voi conosceremo. Insomma, colui che ha messo mano molto alla Genova, la seconda metà dell'Ottocento. Vi dicevo appunto della... vi paravo della... l'attore Grimaldina. L'attore Grimaldina, insieme ai sotterrani, ospitava i carceri, i carceri del Lucale. Se vi capita di andare in Via Tommasoreggio, per esempio, potete leggere una lapide, per la qua, per esempio, in cui si racconta che consacrò queste carceri sangue gli apodrofili. Gli apodrofili è uno dei più famosi, tra virgolette, carcerati nella torre del Palazzo Lucale. Lui trova anche lì la morte. Molti altri, i domini di Pachiazella, di Paganini, Simbaldo Scorsa, per farvi vedere alcuni esempi, invece furono qui impregionati il pirata Dragut, per essere un esempio famoso, o anche il Vacchero, sceleratissimo genovese, come sapete, non giuro appunto la Repubblica, furono impregionati nella torre Grimaldina. Vedete qua, la torre Grimaldina, che come saprete, è una costruzione inizio trecentesca, poi nel XVI secolo viene aggiunto questo piano, appunto, per via una bellissima campana, e poi appunto la scuola sommitale. Se non l'avete mai vista, questa è il piano della campana, ecco qua, e questa è la vista che si ha da lassù. Fate conto di vedere dall'altra parte, come in generale, tutta Genova dall'alto. Purtroppo non è aperto al pubblico, per fortuna invece ho avuto la possibilità di andarci, e vi dico, da in cima, è veramente sensazione bellissima di vedere tutta Genova dall'alto. Dicevo, il carcere, il carcere, ma come si mangiava in questi luoghi? O meglio, cosa mangiavano coloro che qui lavoravano. Si tratta, uno dei piatti più famosi della Genova antica, ossia la sbira. La sbira, una zuppa consumata dai doganieri e da coloro che le guardie genovesi appunto che lavoravano nelle carceri, quindi, o nella torre o spesso nei sotterrani. Spesso la sbira era anche il mangiare dei condannati a morte, o meglio, l'ultima cena, quindi per mangiare un po' meglio è che farci dati come ultima cena prima delle situazioni che devono la sbira. Sbira o minestra la sbira è una delle più antiche preparazioni genovesi della trippa. Si tratta di una zuppa appunto a base di trippa che aveva servita caldissima ed era molto utile per i ideali, diciamo, per intemperare il corpo dopo una lunga giornata al freddo. Era, per questo, era un piatto molto diffuso nella preparazione dei lavoratori che lavoravano all'aperto, per esempio i scaricatori di porto, i scaricatori di porto ossia i camalli, se vogliamo chiamarli con un termine arabo, frutto di quel melting pot che vi parlo sempre visto di squanzi di culture e di parole dei mediterrani, oppure il caravana, se vogliamo chiamarli invece con il loro nome. Nella compagnia, la compagnia del caravana come saprete è stata la compagnia unica tra virgolette fino al 1800, cioè coloro che avevano scaricato dal porto erano tutti appartenenti a questa compagnia. La compagnia del caravana è detta così perché erano tutti di una zona, in particolare zona di Bergamo o di intorni che solo coloro che erano nati in quella zona potevano esercitare questa professione. Si racconta, è vero, che le mogli del caravana correvano a Bergamo e all'intorno, nelle valli del Val Brembana, per partorire, perché solo coloro che erano nati in quelle valli potevano lavorare in porto e quindi anche i bimbi nascevano laggiù e tornavano a genova, come dire, potevano poi entrare nella compagnia del caravana. Vi dicevo appunto della Svira. Svira, perché questo nome? Beh, come immaginerete, adesso ci arriveremo. Facciamo un passo in via Giulia. Via Giulia, come sapete, è quella via per fare la vasta facile che collegava la forza Santo Stefano a Piazza Domenico per attualizzarla, diciamo, tra Ponto Monumentale e l'attuale Piazza del Ferrara. In questa via, salendo su a destra, lato, diciamo così, picca pieta, lato di Avernazzi, diciamo dove oggi sorge più o meno l'Accademia Linguistica, c'era un oratorio, l'oratorio dedicato a Sant'Antonio e Paolo. Un oratorio di un piccolo oratorio in un piccolo detto di San Francesco, ma ci arriveremo. O dove è la Pugge? Ci arrivo un sacco. L'oratorio nasce tra il XV e il XV secolo e, meraviglia di questo oratorio, era questa cassa personale che vedete qua. Questa bella foto, c'è bella foto data o no, c'è bella foto fatta io, ma c'è una foto che rende molto con le luci bellissime, luci e foto fatta alla Mossio Maragliano al teatro del Falcone, delle luci particolarmente belle, quindi le foto venivano assa bene, o perlomeno rendevano molto bene il soggetto. Questa cassa è una cassa di Antonio Maria Maragliano fatta tra 1909 e 1910, costata, si dice, ben mille lire e definita da Carlo Maria Ratti come la miglior opera uscita dai scappelli del Maragliano. L'oratorio, come immaginerete, purtroppo non esiste più, ma la bellissima, il cassa personale, invece, ha passato in demne come di dei secoli ed è oggi si può ammirare nell'oratorio di San Antonio Abate di Mele poiché, infatti, la confrattenta nel XIX secolo vendette appunto al dottorio di San Antonio di Mele la cassa che ancora oggi è lì esposta. Mentre, invece, la confrattenta non si è estinta dopo la distruzione del dottorio prima prese sede momentaneamente in Santa Marta e poi in Santa Maria in Vialata dove tuttora ha sede. Per chi vuoi si ricorda qualche anno fa abbiamo fatto una gita con Giano proprio alla schiesta in Vialata e nel bellissimo laboratorio del nostro socio onorario Nino Silvestri ebbene lì è la sede della confrattenta ogni anno se volete visitare questa chiesa il 17 gennaio appunto la festa di San Antonio Abate vi si celebra messa quindi anche un giorno per uscire a poterla visitare al pubblico. Ebbene questo oratorio qua era detto oratorio dei birri perché birri? Perché molti dei confratelli erano appartenenti alle forze dell'ordine birri, sbirri vediamo oggi un termine quasi dispeggiativo ebbene i birri davano il nome all'oratorio diciamo l'oratorio di birri davano anche il nome alla sbira perché la sbira questa zuppa di tripa era molto era il piatto preferito consumato da moltissimi birri e quindi diciamo così i fruttori maggiori di questa zuppa indiedono il nome appunto di sbira mi dicevo prima perché non appena solo gli oratori che l'oratorio di Sant'Antonio sorgeva in una salita che poteva a chi capire salita dentro di San Francesco o della Pulce perché di San Francesco perché in questa salita qua vi è un altro oratorio un oratorio bellissimo ma tanto per farvi vedere il Sant'Antonio faccio vedere un'immagine aspettata di questa bellissima tazza professionale se non la conoscete merita di aspettare una mostra spetta di essere vista anche nei particolari che forse sul sito giustamente la foto non è particolarmente per esempio vedete qua il vestito di San Paolo e la vita guardate che bello come visto come intrecciato stendamente come anche bellissimi sono gli angioletti che vengono sopra e anche tanti particolari per esempio guardate San Paolo e la vita che dorme guardate l'angioletto che scende questa piccola faccia maraglianesca ma anche bellissimo anche particolari per esempio il maiale ecco guardate che bello questo piccolo lucciato corre lungo la cassa particolare tanti piccoli particolari rendono la cassa particolare magnifica tra l'altro ora con il restauro quanto di vino si diverte è ancora più bella si ricorda in aramele non potete perdere questo particolare vedete con il fuoco il testo il rosario ed eccola qua vi dicevo di vi dicevo che accanto a questo oratorio vi un altro oratorio di san francesco oratorio di san francesco appunto in questa salita detta dal fuoco di san francesco una salita che da via giulia portava al piano di più capitata anche questa confrattente questo oratorio purtroppo è andato distrutto ma non tutto se vi capita di arrivare alla chiesa della stessa concezione o potre santo infatti vi è ancora la cassa versionale anch'essa opera di Anto Maria Maragliano eccola qui la cassa versionale in cui rappresentato San Francesco d'Assisi in atto riceve le stigmate la cassa versionale oggi è come vedete dalla foto montata su un altare in realtà essendo montata su un altare ha perso un po' la cioè è stata sottimodificata alcuni su elementi poi la cassa infatti era concepita per essere vista come dire allo stesso livello al suo piano ed era anche sviluppata più in lunghezza le figure erano disposte diversamente e si sono messe su un altare nello spazio è ridotto e le figure non sono viste dall'alto quindi in questo momento le figure sono inclinate verso il basso in questo modo è fedele e sono più vicine da loro questa foto viene sul sito è una foto pre-restauro faccio la cassa pre-restaurata vi faccio vedere ad esempio questo angioletto qua vedete con questo di un semplice azzurro ebbene restaurandolo subito a vedere in realtà sono tutti fuori i veri colori questo è quello che vi faccio vedere perché è particolarmente bello ho avuto la fortuna di poter seguire anche grazie alla penevolenza dei restauratori il restauratore faccio vedere ad esempio poi nel studio congetto di cui vi faccio vedere prima l'immagine guardate cosa è avuto fuori è avuto fuori quel semplice azzurro in realtà è un vestito molto più complicato con questi bellissimi fiori e questi colori con i tuoi inoltre se vi credo di andare a Roma alla mostra sul barocco genovese avreste potuto vedere il bozzetto eccolo qua in terracotta questo è il bozzetto della nostra cassa personale di San Francesco eccolo qua se guardate l'immagine vedete è molto simile anche se qui le figure sono molto più vicine tra loro e quindi si perde un po' tutta la scena qui forse si vede un pochino meglio tra l'altro il bozzetto che era nato in venita in una casa d'asta l'anno scorso era rimasto invenduto è rimasto qui nell'ultimo proprietario tra l'altro che abita nei vicoli che mangia la focaccia prende la focaccia lo la prendo io quindi una persona che conosco ed eccolo qua questo è il bozzetto che potevate vedere vi dicevo proprio alla mostra su Roma del barocco e che ora avete ritornato alla collezione privata comunque diciamo ogni tanto viene anche sposto viene anche bello da vedere farvelo capire i bozzetti venivano realizzati come in questo caso qua in caracotta oppure spesso anche in cera qui comunque la terra di modellare facilmente torniamo al nostro al nostro mangiare la domenica di questa sera vi dicevo vi raccontavo appunto della sbira dove avreste dovuto mangiare la sbira beh come immaginerete appunto nelle triperie triperie una volta venivano tantissime triperie nei vicoli quindi quell'odore che oggi sentite per esempio in Bico Casano che vi è ancora una bellissima triperia soprattutto se passate pomeriggio con l'odore di pentio che rimbolo appunto un odore che è molto tipico in realtà per i nostri nonni oggi purtroppo questo profumo di tripa lo potesse giusto assaporare in un suono di Bico Casano ma non più in tanti luoghi come lo dicevo una volta le triperie erano molto diffuse mentre vi dicevo il diciamo così i tagli nobili della carne erano osservati dal nobiltà e la borghesia tutte le frattaglie invece potevano essere mangiate dal popolo perché tostavano poco e quindi erano un ottimo compagnetto appunto per la classe medio-bassa anzi bassa ma non so in realtà diciamo questa distinzione non è del tutto vera in quanto la tripa era tipica anche del mangiare di Natale anche della borghesia quindi non è vero che non mangiare riservati a poveri ma ragazzi non è magari stata tutta la tutta la tua popolazione il vero è che la tripa cioè quindi il frattaglio in generale costavano poco e quindi erano un ottimo compagnetto per la popolazione vi mostro in primis l'immagine della triperia come vedete ecco la tipica la triperia di Vivo Casano è una tipica triperia come si è vista nei vicoli 200 anni fa non a caso questo negozio questa bottega ha proprio 200 anni in primis il bancone il bancone è marmo dove sono esposte le varie tripe ancora belle se andate con un po' di fortuna trovate ancora belle gocciolanti belle calde pavimento in pietra granchi e nera i due pentoloni che bollono e i banconi i banconi spesso vedete in legno in questo caso di marmo qualche tempo fa avessi trovato anche qualche portuale o qualche birro che avevessi trovato qui la propria zuppa alla sbira magari su uno sgabello perché due pentoloni beh due pentoloni perché da una parte la tripa bianca e dall'altra la tripa rossa la tripa bianca ossia il centopelli la cuffia il cordone la tripa rossa come vedete qua c'è un esempio quindi dico tripa bianca intendo diciamo la tripa rossa invece il gruppo la castagnetta il centro la gola gruppo che scusate sì che noi chiamiamo poi si groppo che noi non groppo quella che deve essere per andare a silenzio è il famoso lampredotto vi dicevo appunto vediamo un po' si vede bene sì allora la cuffia questa qui non come già detto è tripa bianca la cuffia riconoscete perché ha quella consistenza tipo anidodate mentre invece il cordone è quello che sembra un po' la nosa se lo vedete è un po' diverso con le trippe la tripa bianca non ha particolarmente sapore la tripa rossa invece più saporita è quella che con cui si fa la sbira appunto quindi ha consumata nelle coppette questo brodo oggi tripa fumante diceva dai portuali dai birri o comunque la colore che proseguono passare spesso era anche un'ottima colazione quindi chi finiva il torno di notte e la mattina ti andasse a fare una bella zuppa di tripa zuppa di tripa che poteva essere anche accompagnata spesso da gallette l'unico altro genere alimentare che veniva venduto nelle triperie qui si vede ma non tanto bene sono ecco le vedete un po' qua sono le fagiolane bollite ossia grossi fagioli bianchi che studiscono elemento imprescindibile per le trippe accomodate e l'unico altro genere alimentare che potevate potete trovare nelle triperie ecco ciò vuoi dire appunto oltre alle piastelle bianche ecco delle delle pareti e appunto il bancone in marmo ancora oggi così in giro casana forse è venuta che avete nei vicoli quindi se vi capita è anche solo bello da vedere o da assaporare il gusto se puoi comprare qualcosa è anche con tutti i proprietari quindi ve lo consiglio ma la tripa non è l'unico diciamo così mangiare tipico che potete trovare nei vicoli potete per farlo trovarla ancora un altro locale che potete trovare nei vicoli era la sciamata sciamata ossia fiammata per sciamata intendiamo un locale che vi faccio subito vedere un esempio eccolo qua un locale nel quale vi era ancora più facile oppure questo qua molto simboliverso locali catalizzati anch'essi da piastrelle bianche alle pareti un lungo bancone di marmo come capita qua e dietro al bancone questo qua al fianco questo qua che vi sto dietro un forno un forno con il fuoco sempre acceso appunto la fiammata la sciamata sotto il forno un alloggiamento per la legna che poi è proprio il carburante della sciamata dove mangiavati questo è mangiato su lunghi tavoli di legno eccola qua lunghi tavoli di legno anche qui che sta dalle pareti tavoli di legno spesso come capita per esempio nella fiscoria carrega e storifa il bancone corre lungo il muro quindi con le svevelle contro il muro lungo un mancone le sciamatte sono vi dicevo un esempio dei vicoli sapesta sapesta sapete perché detta sale pestato perché in questo locale anticamente si vendeva appunto il sale pestato poi pian piano la bottiglia cambia e diventa vendere vino pane inizia comunque a diventare una sciamata e quindi ma rimane comunque sapesta e il proprietario rimane o sapesta appunto dicevo cosa si fa nelle triperie si viene solo cotta solo tripe bianche tripe rosse dicevo ai fagionati nelle sciamatte invece potete trovare dipini di verdura acciughe dipieni torte di verdura polpettoni e anche dipini di pesce non solo il massimo poi a meno diciamo così per un turista ma non solo forse è la farinata la farinata come tu sapete nasce una legge molto antica è proprio un'altra legge da carrega dove c'è oltre che appunto a tenere tutto vi avevamo anche buonissime fritture di pesce dicevo la farinata farinata che la reggenda racconta essere nata nel 1284 ossia quando i genovesi ritornano vittoriosi dalla terra della Meloria si racconta che durante la tempesta alcuni vari di olio si spaccano e si mischiano con sacchi di ceci si mischiano tra loro anche con l'acqua salata del mare dando vita a una pontiglia che si decide di assaggiare si dice perché non si butta via niente perché non specare si racconta anche viene prima data da mangiare ai prigionieri pisani e poi l'assaggiano i balinai comunque sembra buona arrivata a Genova si decide di fare lo stesso impasto ma di cuocere nel forno il risultato piace moltissimo e così nasce la farinata farinata che per schermo e sconfitti e per il suo caratteristico colore viene chiamata un loro di pisa e appunto questo appunto è forse il piatto più tipico che potete assaggiare nelle nostre chamade mi dicevo appunto delle botteghe storiche chamade da una parte quindi questa pesta farvi vedere un esempio eccolo qua lo vedete appunto ai lati e poi fuoco che è sempre acceso in questo caso la farinata se vi capite di passare qui siamo all'angolo tra via giustiniani e il costau appunto la vetrina dove sono esposte tantissime torte di verdura ma non solo e poi qua invece eccolo qua questo è un'antica chamada invece in via San Giorgio anch'essa il banco di apparto pavimento moderno il banco sempre di marmo e il forno sempre acceso siccome vogliamo avevate invece idea di pranzare a casa allora avevate comprare qualcosa e nei vincoli potevate andare invece portare ad altre botteghe storiche un esempio vi faccio vedere un po' di altre chamada vera e propria questo invece siamo alla presidoria presidoria carrega per farvi un esempio presidoria presidoria che nasce nel 1242 negli ultimi anni ha cambiato padrone non è più famiglia carrega ma i nuovi padroni continuano comunque l'antica tradizione qui invece invece che chamada ma presidoria quindi qui si ha comunque tipo di fritto anche qui le caratteristiche sono il bancone sempre dietro due fori sempre accesi qui si va a carbone e di fronte al banco invece avete appunto come raccontavo prima come tipico di molte chamada il bancone che dà verso il muro quindi siete appoggiati su un lungo bancone sulle sgabelle e siete mangiato il vostro piatto tipico in realtà spesso sono già per strada per questo infatti si dice che le chamada sono i nonni del nostro street food perché spesso appunto il mangiare viene preso e porto a strada non capitano invece nelle tripperie dove invece sedeva un attimo e si assaggiava le coppette appunto nelle appunto dentro la tripperia si diceva se invece aveste voluto non mangiare qui nelle tripperie o nelle chamada o la tigitoria aveste voluto andare a casa ebbene la scelta ancora oggi è abbastanza ampia uno tra tutti da ricordare sicuramente i fratelli Armanino e figli che vende qualunque cosa relativa a frutta secca ma non solo per esempio carrube una cosa abbastanza rara da vedere ma anche zenzero papaya mi ricordo di quella noce moscata è difficile trovare lì c'è la noce moscata sono negozi che sono molto sono molto pieni soprattutto a Natale perché una frutta secca è tanto altro che tipico appunto del periodo natalizio vengono mangiare antichi come frutta secca frutta candita sono mangiare anche che ci riguardano e diciamo così nascono dai contatti di Genova con l'Oriente soprattutto quanto riguarda la frutta candita frutta candita i cui antichi segreti appunto erano del mondo arabo del mondo orientale arrivano a Genova e vengono sfruttate dalle nostre botteghe storiche non ha tutti armani nei figli altre botteghe di cui magari parlerò un'altra volta quando parleremo dei dolci potrebbe essere appunto romanico romanico dove trovate la frutta candita ma non solo frutta secca eccetera quindi tutto ciò che riguarda mangiare di mangiare appunto di questo tipo voglio dire ancora due o tre cose che voglio lasciarvi questa è un'altra tipica dei bozzi trovata nei piccoli questa è la drogheria anche qui l'antica drogheria Torielli ci racconta un passato glorioso appunto di Genova quando Genova vi era appunto commercio con l'Oriente ma non solo in questo caso appunto ancora oggi potete trovare tantissime spezie di ogni tipo questa è una foto qualche anno fa dopo nel periodo di Natale quante spezie sono attaccate sono appunto catalogate una a una e trovate qualunque tipo di cosa soprattutto è impressionante se vi tratteremo se vi passate davanti il profumo che hanno questi questi locali il profumo già da fuori già da lontano come dicevo già la tripperia è un profumo buonissimo che si ascolta già da lontano già in cima oppure in fondo quando veste la buona fede a prendere un gelato ebbene così capita anche l'attoriale con l'attoriale si tende a San Marano anche se non si sta più davanti dalla bottega il profumo che si espande è buonissimo vi voglio farvi vedere ancora due cose questo è un altro esempio anche lui caneto lungo sempre dove caneto lungo ma è facilità anche vediamo un po' se riesco a trovarlo nelle botteghe storiche perché per fortuna vi ho fatto vedere qualche bottega storica antica in realtà ci sono anche botteghe più moderne che per fortuna proseguono in questa antica tradizione se va vi faccio vedere la bottega di un ragazzo bravo di un ragazzo di un giovane che è bravo bravissimo che si trova intanto lungo qui per esempio è una sciamata diciamo così più moderna lo vedete il mangiare è un ragazzo giovane che ha accolto il segno di un antico maestro e anche qui troviamo tipico mangiare le sciamade per esempio vi faccio vedere ecco qua questi grossi testi questi grossi testi sono queste grosse teglie quindi dove viene impastato dove viene preparata la farinata ma non solo in questo caso come si tratta nei ritieni ma anche altro bisogna vedere questo potete vedere anche un bel bancone tipico delle sciamade eccolo qua questo è un bancone tipico delle sciamade vedete anche un pochino più moderno comunque è un bancone tipico del marmo in ogni teglia in ogni testo appunto vi sono torte torte di verdure eccetera eccetera il bancone vedete corre tutto lungo il locale quindi e deve mangiare per mangiare per strada non dentro il locale già che eravamo qua ecco sta presto vediamo se abbiamo qualche altra foto vedete un po' meglio se non la conoscesse questo è il tipico ecco qui c'è la ecco questo è meglio questo è il sito vedete qua l'infarinata i testi la fiamma sempre accesa e il carburante appunto della sciamade il legno abbiamo fatto prima qualche tavola la sediamo ancora un po' meglio forse ancora ecco invece vi dicevo mentre la qua ci abbiamo ancora la tiperia casana adesso abbiamo qualche foto più particolare eccola qua eccole qui le trippe bianche di cui vi parlavo prima vedete questa lanosa appunto è il cordone ecco lo qua avete molto lanoso mentre invece avessimo un po' di mindodate ecco la cosa più di mindodate queste sono tutte trippe bianche e qua abbiamo appunto eccola qua la fagiolana appunto i grossi fagioli che venivano che sono come sapete utili per la tripa accomodata questo è quanto se vi capita di passare oggi purtroppo non potete più assaporare la tripa dentro ma potete portarvela a casa diciamo mentre non è più non si usa più pronunciare scenare qua e nessuno potete vedere mai stavoli qua purtroppo non avete mai occupato da nessuno ma potete appunto portarvela a casa e assaporarla a casa già che siamo in anticipo faccio vedere ancora di palazzo lucale qualche immagine del dove lavoravano i nostri birri cioè coloro che dove abbiamo iniziato la nostra discussione eccola qua la torre vediamo un po' se abbiamo qualche immagine un po' più nipida che vi ho fatto vedere prima visto che vediamo un po' un attimo di tempo allora palazzo lucale eccoci qua allora torre Grimaldini tanto per le mani nelle carci eccolo qui le carci dove lavoravano i nostri amici birri se vi capite di andare nelle carci di palazzo lucale noterete delle bellissime bellissime affresche quindi così fatti dai carcerati questi particolarmente belli alcuni meno belli ma appunto da vedere qui è poi questo è un po' gli ambienti come sapete questo è il primo piano si sale su si arriva a una bella vista della città si arriva se vi capite di visitarli sono aperte in questo periodo arrivate fino a questo livello qua che è il livello massimo visitabile di qui passa una scala quasi in verticare che porta prima al piano della campana e poi ancora più su al terrasco dove appunto sventa la bandiera di Genova o qualche volta la bandiera italiana o qualche altra bandiera ebbene se mai come dicono cioè mai ci riprendono poi apriamo al pubblico questo è la visuale di Genova che avete dall'ultimo piano visitabile quello di Torre de Castro e tutto appunto il nostro castello con gli stranei di castello se poi vogliamo salire questa invece la visuale verso monte lo possiamo notare di particolare qui ci passiamo le vigne tempo tremendo il palazzo rosso in sua castelletta la visuale in realtà è già bellissima dal piano diciamo così visitabile se poi vogliamo salire ancora appunto arriviamo alla campana vediamo la foto della campana che forse è ancora più bella perché è una foto particolare la campana rifatta dalla compagna ecco questa è la scala quasi in verticale che vi porta appunto al piano della campana e poi è più o meno uguale al quarto all'ultimo piano purtroppo non è una scala in sicurezza per questo non è aperta questa è la cella degli apogolfini di venire giusto a vedere le carceri di poter entrare dentro di capire dove, come ho detto soggiornava il nostro Jacopo e vediamo un po' se riusciamo a arrivare in cima eccolo qua l'ultimo dipende dall'attuale questa è la cima troppo facile vediamoci riusciamo vediamo la campana eccola qua questa è la campana la campana del palazzo oggi non è più utilizzata una volta che ce l'ha utilizzata per vari scopi perché come sapete essendo una campana civile quindi avuti civili ma una campana potrebbe essere sentita in quella città quindi viene ascoltata distesa deve essere ascoltata la città questa è la campana avete siamo ancora più in alto questo abbiamo il Gesù la Genova novecentesca di Piazza Dante questa è la nostra campana appunto se poi saliamo ancora ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo appunto stasera con Genova dall'altissimo eccolo qua allora vediamo un po' una bella immagine faccio un po' capire beh questa intanto è la bandiera che tutti avete visto da basso eccola con il pennone con la nostra bandiera di Genova guardate che bello che è si può saperti al pubblico super rasso tra l'altro sembra abbastanza a norma eccoci qua questo è il lato monte il lato monte eccoci qua tutto girano i nostri piedi quindi possiamo vedere apriamo un po' gli occhi come dire abbiamo qui via Garibaldi questa camara di commercio questo giardino di Palazzo Doria con quel bel cedro il Palazzo Lomellino fino ad arrivare a Albini e Castelletto qui abbiamo un campanellino della Maddalena e avanti fino a Palazzo Rosso e poi questa è il fine forti una vista più o meno a 360 gradi sul genere questa è il taglio ottocentesco via Roma Corvetto via Sarò di quella che appunto vi ricordate una volta che abbiamo parlato per esempio la chiesa di San Sebastiano che era qua e era distrutta per dare un taglio netto una riga dritta appunto e portasse la gira ottocentesca da Piazza di Ferrari fino a Manini qua questa cupolona qua è l'immacolata appunto e qua eccola qua Villa delle Fischiere bellissima enorme una morte pensatevi Villa delle Fischiere senza nulla davanti quando c'era una puntata a scuola che raccontava che la Villa delle Fischiere si godeva lo spettacolo del del teatro di urno il teatro di urno era più o meno vedete più o meno era qua era qua in realtà oggi non vedrebbe neanche Via Sarò una volta riuscita qua non c'era nulla in meglio se non giardini orti c'era un'immagine forse le due immagini più belle per me per lo meno che sono immagini dei vicoli dall'alto eccolo qua ho visto prima male se non vedete meglio vediamo in bellezza eccolo qua tutta la colina di castello qui abbiamo Santa Maria della Grazia Nuova con la chiesa oggi il Fomus come casa Paganini questo del Ducandato comunque se ne parte del convento Santa Maria di Castello il dottore del Castello degli Ambriaci Torre Marufo un'altra torre che forse non so quanti voi conoscerete che è in Carneto ancora qua altissima questo buco tra l'altro qui in mezzo è la piazza di Valaurio la piazza di coloro che suonavano le campagne con il Valaurio la piazza Valoria qui dobbiamo ancora di bella farvi vedere ah beh qui tra l'altro c'è una cosa eccola questa la prossima la conoscerete in poppia questa è la facoltà dell'architettura del Gardella e questo invece lo vedete sbucare vedete una cosa mi sembra mi sembra una torre perché lo è è la torre campanaria di quello che fu il convento di San Bernardo se andate in piazza San Bernardo oggi ho il locale Moretti ebbene lì quel palazzo lì che fa angolo con i coppeggetti era il era il convento San Bernardo aveva un campanile ed eccolo qua oggi una torre una civile abitazione una sfida e poca in realtà sono dei punti altissimi dei vincoli come per esempio appunto dovete sapere anche cosa guardare però se si ricavete dei punti molto alti per esempio dalla collina di Castello ma per le stesse proprio in Pantinato notare in realtà è in mezzo è un po' fagocitato quindi si vede poche però svetta ancora come svetta San Giorgio questo momento questo momento su in realtà c'era il San Lorenzo che era in restauro quindi con il cupolo dell'alessica impacchettato San Giorgio eccolo qua la Caglioreale il Porto Antico eccetera eccetera vediamo se c'è ancora l'ultima immagine se c'è ancora l'ultima immagine se c'è ancora l'ultima immagine dall'altra parte forse è l'ultima che mi manca direi beh sì però è troppo questa forse ecco in questa immagine che è l'ultima parte di vicoli oggi ho questa distesa di tetti che sono poi i vicoli verso Levante direi verso Ponente ecco qua vediamo il Porto Antico vediamo qualcosa di particolare farvi vedere queste sono le vigne come immaginerete tra l'altro Villo Cattania in testa delle vigne andiamo avanti qui c'è San Siro la Nunziata San Carlo lontanissimo ed ecco questa è un'altra torre che forse poco di voi conosceranno però qui è Torre Piccaminio che invece insiste su subire il campo o nell'angolo di questo Marcellino il resto più o meno dove si è prima beh avrebbero i poveri il nostro corso rosso e poi un po' di Viegaribaldi un po' di Albini bello brutto corso brutto viene anche a casa mia ma non ve l'ha inito perché rimarrà un segretario di vicoli fino ad arrivare al seminario bene abbiamo iniziato questa puntata su questa guardando le nostre immagini del Caldiaso abbiamo concluso invece in cima alla nostra torre sempre però guardando le immagini attuali come sempre grazie per avermi ascoltato in questa mezz'oretta che come sempre si è un po' allungata vi saluto vi ringrazio vi do come sempre la buonanotte ai vicoli e grazie per l'ascolto che si è un po' allungata che si è un po' allungata che si è un po' allungata